Vi abbiamo già dato conto della storia d'amore dell'attrice Geggia con un ragazzo molto più giovane di lei. Ieri pomeriggio però la coppia ha avuto la consacrazione definitiva a pomeriggio 5. Il pubblico da casa ha così conosciuto Michele, 24 anni, modello e figurante nell'ultimo video musicale di Geggia che di anni ne ha 55. L'attrice ha parlato senza problemi del suo rapporto con Michele e anzi è stata anche ripresa dall'Adurso per il suo linguaggio un po' troppo volgare. I due si sono anche scambiati diversi baci in studio mentre da Twitter arrivavano commenti ben poco benevoli. Ma sì dai lui ha bisogno di visibilità e lei più di lui qualcuno scrive a cui fa seguito cara Geggia se non fosse una montatura pubblicitaria avresti tutto il mio rispetto. Alla faccia dei ben pensanti però io non ci casco.